Il teatrino giocattolo Il teatro futurista. L'artista Fernanda Pessolano rielabora modelli di carta e di altri materiali per comporre scene, mondi e personaggi della memoria popolare. La mostra nasce da un lavoro precedente, Elsa Morante e il Corriere dei Piccoli, fatto per le biblioteche di Roma l'anno scorso, dove c'è tutto uno studio sui cartamodelli che il Corriere dei Piccoli proponeva dagli inizi del Novecento fino agli anni Sessanta. Da questi cartamodelli qui, dove io poi ho ricostruito i personaggi delle storie di Elsa Morante, è venuta fuori tutta questa mia passione per i teatrini di carta e le marionette di carta. Qui si parte dalla metà del Settecento con dei diorami fatti a prospettiva conica che si guardano da un piccolo buco agli anni Sessanta. C'è un teatrino sulla prima della scala, poi ci sono teatrini francesi, inglesi, italiani, ci sono personaggi dei teatrini di carta della commedia dell'arte, ci sono dei piccoli cartamodelli del teatro in scatola Ghignol, insomma dalla fine del Settecento fino agli anni Sessanta. Presente all'inaugurazione della mostra l'assessore capitolino alla cultura Flavia Barca. Una mostra, devo dire, di grande valore perché coniuga tantissimi linguaggi, stili ed è anche un dialogo importante tra settori, è una mostra sul teatro, è una mostra che è in sé un'opera d'arte di grandissimo valore, è una mostra sull'arte contemporanea ma anche sulla storia, è una mostra sui tessuti. Io credo che è un'importantissima occasione, mi piacerebbe veramente che non solo questa mostra fosse in grado di richiamare tantissime persone, amanti e appassionati del genere, ma che tutte le persone che entrano in questo bellissimo parco di Villa Panfili avessero l'opportunità e l'occasione per passare un attimo qui e godere di questa occasione veramente importante.